Tra i partner che sostengono Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, c'è anche il colosso del settore turistico Alpitur World, che si pone al fianco di quest'anno da capitale per sostenerne la promozione del territorio. Abbiamo deciso di sostenere la capitale della cultura per dare un segno di vicinanza al territorio, su cui insiste una delle nostre sedi principali. Le nostre sedi si trovano a Milano, Torino e Pesaro e abbiamo ritenuto importante essere vicini alla città in un momento così determinante, così particolare e unico. Un'altra iniziativa, tanto per citare un po' il nostro cambio di rotta, il nostro interesse per il sostegno delle comunità locali, gli ambiti in cui operano le nostre sedi, è ad esempio anche il supporto al Museo Egizio di Torino, per cui abbiamo siglato una partnership di oltre 4 anni con un investimento molto importante. Questo è un po' il senso con cui stiamo cercando di migliorare il nostro percepito, le nostre immagini, anche in ambito di sostenibilità. Quindi al di là del concetto di sostenibilità ambientale, cerchiamo di ridistruire la ricchezza generata anche sui territori in cui si trovano le nostre sedi. Tra gli obiettivi di promozione del panorama pesarese, Alpitur World prenderà parte anche ad iniziative ed eventi ormai storici del territorio. Per quanto non sia all'interno del nostro core business una destinazione sicuramente tra le principali, quella della riviera Adriatica e in particolare di Pesaro, comunque riteniamo che sia un'iniziativa molto importante per collocare il brand Pesaro anche su territori che vanno al di là del percepito tradizionale, quindi della vacanza di mare diciamo un po' tradizionale che forse è l'elemento più trainante da diversi anni per quello che riguarda questa destinazione turistica. Quindi c'è per cercare di riposizionarla anche su ambiti di cultura, di modernità e di innovazione. Come dicevo non è un elemento rilevante all'interno del nostro business, però credo che riusciremo a vedere in estate, in particolare con un'iniziativa che abbiamo pensato che è quella di sostenere la mezzanotte bianca dei bambini, di avere una nostra presenza con uno dei nostri marchi più importanti, Bravo, che è quello che si occupa di villaggi e crediamo che potrebbe essere una cosa interessante appunto per proporre anche alle famiglie che verranno a passare una giornata durante questo evento il format che per noi è centrale per promuovere le vacanze, soprattutto per famiglie con bambini. Presente e futuro, la capitale italiana della cultura non è destinata a durare un solo anno. Il lavoro svolto infatti mira a restare nel tempo. Non abbiamo deciso di sostenere la capitale della cultura per avere, aspettandoci di avere un ritorno economico immediato, comunque di misurarlo come una tradizionale iniziativa di marketing o di promozione. L'abbiamo fatto proprio per dimostrare che questa azienda per quanto così grande, per quanto così sparsa anche sul territorio italiano, sia comunque molto presente, molto vicina sul territorio pesarese. Credo che riusciremo a vedere, per essere un pochino più concreti, se potrà darci un qualche tipo di vantaggio da questo punto di vista appunto con l'iniziativa della Mezzanotte Bianca dei Bambini a cui parteciperemo. Però ecco, ripeto, l'abbiamo fatto soprattutto come messaggio di vicinanza della nostra realtà alla città di Pesaro. Credo che riposizionare l'immagine di questa città, il brand Pesaro, su territori che possano andare al di là della vacanza tradizionale di mare e cercare di attirare un pubblico che possa avere interessi differenti, quindi anche più legati agli eventi, alla cultura, a tutta una serie di stimoli che appunto vanno anche oltre quello che è il mare, non possa che fare bene a questa città, anche perché si tratta di turisti che generalmente hanno una capacità di spesa differente, maggiore, e comunque possa permettere di avere una proposta che sia sicuramente più ampia rispetto a quella della semplice sole e mare.